Musica Buongiorno ai telespettatori di Rossini TV, buona settimana, buon lunedì, siamo in diretta dagli studi di Rossini TV per Casa Rossini. Quindi partiamo come sempre con la nostra trasmissione che va in onda, lo ricordiamo, il lunedì, mercoledì e venerdì appunto in diretta, più diverse repliche nella giornata e nei giorni successivi, ne parleremo dopo per quanto riguarda gli orari. Intanto ricordiamo i nostri contatti per collegarsi in diretta appunto con noi attraverso whatsapp al 351 708 9977 oppure all'indirizzo mail casarossini-rossinitv.it. Gli ospiti di oggi li scopriremo fra un po', come sempre partiamo raccontandovi un po' di questa giornata, questa giornata mezza festiva, arrivando qua in studio, visto che il parcheggio è semivuoto, insomma qualcuno probabilmente approfitta dell'ipotetico ponte perché poi non si può andare da nessuna parte ma comunque a casa si può stare, per cui dell'ipotetico ponte per starsene un po' a casa e questo magari vuol dire anche che c'è qualcuno in più che ci segue da casa. E allora oggi è il 7 dicembre, mancano 24 giorni alla fine dell'anno, secondo il nostro librone Personology oggi è il giorno della peculiarità. Il 7 dicembre è uno di quei giorni in cui il santo è noto a tutti, un po' come il giorno di San Francesco e tante altre giornate importanti perché oggi si celebra Sant'Ambrogio, dottore della Chiesa, una delle personalità più importanti della Chiesa del IV secolo, è vescovo di Milano dal 374 alla sua morte che è avvenuta nel 397. Vescovo è appunto di Milano, patrono della città di Milano, Sant'Ambrogio, Ambrosini, insomma sappiamo già tutto. Passiamo ad alcuni eventi storici invece del 7 dicembre. Nel 43 a.C., la prendo l'arga anche questa volta come già viene il discorso, esattamente 20 anni e tre giorni dopo la quarta cattilinaria, ne abbiamo parlato appunto venerdì scorso, Marco Tullio Cicerone viene decapitato per ordine di Marco Antonio. Evidentemente oltre alla cattilinaria ne aveva combinate altre, se qualcuno vuole andare a scoprire che cosa può farlo, perché questo è anche uno degli obiettivi che ci poniamo, quello di creare degli spunti di approfondimento. Andate a cercare e scoprirete cose interessanti, tra l'altro Marco Antonio, lo ricordiamo, è quello famoso di Cleopatra, di cui il film esatto con Richard Burton e Elizabeth Taylor. Nel 1732 è stata inaugurata la Royal Opera House a Covent Garden a Londra. Ripeto, 1732, una sala da teatro da 2256 posti. Naturalmente Londra è la città dei teatri, questo ancora ovviamente è aperto e è ancora molto attivo, lo vediamo in questa bellissima foto notturna. Nel 1851, notizia molto curiosa invece, viene brevettato il frigorifero. Il frigorifero, che come nome viene dal latino frigus, freddo e fero, il verbo portare, ha anche detto frigider per antonomagia dalla marca della prima produzione di serie, la prima produzione di serie del frigorifero ha questa marca, frigider, e da lì è stato chiamato anche in questo modo, abbreviato in frigo o frigor, non so come dite voi, io dico semplicemente frigorifero. Quello che vediamo è proprio il primo che aveva questo strumento esterno che serviva per creare il freddo. È diventato anche un oggetto di culto, ci sono anche memorabilia, acquisti, c'è chi lo tiene ancora in casa, insomma è un elemento di design importante. 1941, di solito noi evitiamo di parlare di ricorrenze che hanno a che fare con guerre, rivoluzioni e cose sanguinarie, ma oggi facciamo un'eccezione perché nel 1941, nella seconda guerra mondiale, il Giappone ha sferrato l'attacco alla base navale americana di Pearl Harbor per opera della prima flotta aerea giapponese. L'episodio segna di fatto l'ingresso ufficiale degli Stati Uniti nel conflitto, nella seconda guerra mondiale, sull'attacco sono stati girati diversi film, tra cui ricordiamo quello del 2001 con Ben Affleck, ecco vediamo qualche immagine. Bene, questo per quanto riguarda la giornata, anticipo anche che oggi l'appuntamento con la dedica di mezza trasmissione viene spostato verso il finale perché a questo punto do l'elenco degli ospiti e poi auguro il benvenuto al primo degli ospiti. Noi avremo oggi in chiusura Davide Pagnini, cantautore, prima di lui Antonella Baioni, titolare di Giochi di Kim, ma è già con noi da qualche minuto e ha seguito tutto questo mio sprolocchio Claudio Albonetti, Presidente nazionale Assotel Confesercenti e Presidente Fincost. Buongiorno Albonetti. Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori di Casa Rossini. Allora, noi siamo qui con Claudio Albonetti che è forse notissimo al pubblico di Rossini TV, poco visto se non sbaglio nei nostri servizi e nei nostri speciali, ma personaggio importante per quanto riguarda la regione e la nazione nell'ambito del turismo. Noi con lui oggi parleremo principalmente di turismo e poi anche di credito perché appunto dal suo osservatorio di Presidente nazionale Assotel Confesercenti sicuramente avrà qualcosa un po' da raccontarci e soprattutto avrà qualcosa da proporci e da raccontarci di cosa sta proponendo al governo e a tutti quelli che possono in qualche modo incidere in senso, ci auspichiamo, auguriamo positivo relativamente all'argomento del turismo che è un argomento che fa soffrire e non poco. Beh, intanto c'è da dire che in questa particolare situazione che stiamo vivendo il turismo è stata la prima attività economica ad andare in crisi e probabilmente sarà anche l'ultima ad uscire dalla crisi. Per cui quello che noi stiamo facendo in questo periodo come Assotel Confesercenti ossia associazioni italiane imprenditori di impresa turistica è tenere un atteggiamento che sia quanto più possibile nel solco del mantenimento del ruolo dell'impresa turistica. Certo, viviamo un periodo in cui gli imprenditori turistici in primo luogo gli albergatori si sentono assolutamente scoraggiati da questa situazione speriamo che il vaccino rimetta a posto le cose ma in ogni caso anche i più ottimisti parlano di un anno o due per poter riprendere il giro normale insomma come era prima di questa pandemia. quindi cosa facciamo? Cerchiamo di mantenere vitali vivi, reattivi gli operatori del turismo. Però lancio una provocazione a maggio, a marzo, aprile, maggio sembrava che la prima ondata appunto ci avesse lasciato e che dovesse essere un addio definitivo e tutti se lo auguravano da parte del virus. Gli articoli di giornale di settembre, di fine agosto, settembre erano articoli che parlavano di un'estate da entusiasmo pienone, grandi successi era solo tirare un sospiro di sollievo dopo la grande paura o c'è stata veramente della sostanza in questa stagione è comunque così importante e in questa stagione così piena, frequentata. A primavera avevamo tutti la certezza che la stagione estiva sarebbe saltata per cui quando si è visto un piccolo spiraglio comunque di poter fare qualcosa ci si è infilati tutti cercando diciamo di ottenere il massimo da una stagione francamente molto difficile. La bassa stagione è saltata tutta così come è saltata anche la fine della stagione quello che ha tenuto botta in maniera sicuramente diciamo positiva rispetto alle aspettative è stato il mese di agosto il mese di agosto si è lavorato, si è lavorato parecchio però un momento si è lavorato sempre con tutta una serie di situazioni difficili il distanziamento, il affollamento delle strutture eccetera per cui era un più accontentarsi che non una dichiarazione di soddisfazione rispetto alla stagione. Del resto non so quale attività possa dirsi economicamente soddisfatta lavorando solo un mese all'anno. Cioè praticamente dopo la grande paura c'è stato un piccolo sospiro di sollievo che nell'entusiasmo del forse fine Covid era stato anche enfatizzato un po' a livello di stampa. Ma voglio essere abbastanza realista in questa tua affermazione di sicuro c'è stato un tentativo anche da parte della stampa e della politica di poter dire ecco avete fatto il mese di agosto adesso va tutto bene siamo tutti tranquilli. Non è così. Non è così. Non è così e uno dei ruoli di un'associazione come Confesso Recente quello di tenere puntato il dito e destra l'attenzione nei confronti della situazione lo si fa in vari modi. Lo si fa anche per esempio attraverso uno spot realizzato da Confesercenti nazionale che va in onda su tutte le televisioni e sui canali social e che adesso mettiamo in onda anche noi. Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché passata l'emergenza tutte le imprese riprendano la propria attività neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo. Ecco, vediamo che l'obiettivo è quello di offrire sostegno e nell'ambito di questa offerta di sostegno ci sta anche questo documento che è stato realizzato e firmato in prima persona dal Presidente nazionale Claudio Albonetti si intitola Proposte di sostegno e rilancio del settore ricettivo ed è un vero e proprio, come posso dire, piccolo dossier di proposte reali, di proposte concrete. A chi sono state indirizzate queste proposte? Queste proposte, intanto una parola sul filmato, come tutti avranno notato, è un vagheggiato desiderio di ritorno alla normalità, perché è quello di cui noi abbiamo bisogno. La proposta di Assotel è stata indirizzata agli organi di governo e alle agenzie di stampa in modo da poterla divulgare sul territorio. Per la maggior parte di queste proposte è un po' la classica lista della spesa, insomma sostegno agli affitti, IMU, eccetera, eccetera, la riedizione del bonus vacanza, eccetera. Il vero, diciamo, punto di forza di questa proposta sta nella, come dire, in una proposta di credito d'imposta secondo Assotel. Credito d'imposta che dovrebbe, a nostro modo di vedere, trasformare una situazione che è di appesantimento per quanto riguarda le imprese in una situazione invece in cui venga creato appunto un motivo di nuovo entusiasmo, di nuovo interesse, di nuova voglia di ripartenza e paradossalmente finanziato come? Finanziato con soldi che non ci sono. Perché in pratica la proposta fa leva sul aggredire il contenzioso fiscale enorme che si è creato tra il mondo delle imprese e l'amministrazione dello Stato. Un contenzioso fiscale imponente e di difficilissima esazione da parte dello Stato perché figuriamoci se in questa situazione quando non c'è la possibilità di affrontare il contingente come uno fa ad affrontare il contingente e recuperare un passato che comunque è difficile da diversi anni per noi. Ecco, noi abbiamo pensato di proporre questo. Fare una semplice operazione di calcolo, ossia la differenza tra il fatturato conseguito dalle imprese nel 2019 rispetto al fatturato conseguito dalle imprese nel 2020 che è sicuramente molto più basso. La differenza, trasformarlo in un credito d'imposta così diviso il 60% che va in abbattimento del contenzioso fiscale ed il 40% che invece va a defalcare, ad abbassare il carico fiscale delle imprese negli anni 21, 22, 23 ossia gli anni della ripartenza. Questo permetterebbe alle imprese intanto di non avere più questo carico enorme che appesantisce le gestioni e le, diciamo... L'operatività. L'operatività, la contabilità, eccetera. Presenterebbe un quadro e quindi da nuova fiducia, nuovo slancio all'imprenditoria cosa di cui c'è assolutamente bisogno presenterebbe anche al cospetto delle banche imprese per certi versi ripulite da quel carico pregresso quindi con rating migliori con una miglior possibilità di accesso al credito dovevamo parlare anche di credito le banche avrebbero come dirimpetagli imprese con rating migliori quindi dovrebbero accantonare di meno per concedere prestiti e quindi avere nuova liquidità che è quella risparmiata da immettere sul mercato. Il tutto senza nessuno scostamento di bilancio che fatalmente andrebbe a gravare sulle future generazioni. Ecco, noi pensiamo che un'operazione di questo tipo possa anche aiutare a, come dire, oltre che dare fiducia agli imprenditori e quindi a mantenere fuori dalla porta tutte quelle proposte che vengono da finanza illecita che sappiamo tutti qual è insomma che in questo momento sta cercando di aggredire le aziende per subentrare ad albergatori o a imprenditori sfiniti, diciamo, da questo punto di vista. Quindi, ecco, si tratterebbe di trasformare una situazione di appesantimento in una situazione di grande alleggerimento e di spinta verso la ripresa. Il tutto senza gravare sulle generazioni che verranno, senza creare nuovi crediti d'imposta. Credo che sia conveniente per tutti. Come dico, di sicuro non è documento per le casse dello Stato dal momento che pensare di recuperare il contenzioso in questo periodo, credo che sia. Io non ho una grandissima esperienza e non ho una grandissima conoscenza di questi argomenti, come probabilmente penso molti di quelli che sono a casa, per cui è un argomento tecnico comunque sul quale prestare molta attenzione. però mi piace guardare in faccia chi parla con me in studio e dal volto, dallo sguardo del Presidente Albonetti io vedo un entusiasmo che mi fa pensare che questa possa essere considerata una proposta innovativa, è qualcosa di originale, di inedito o comunque si va ad allineare a una tendenza già formulata da altri. È una proposta assolutamente innovativa, non c'è niente di analogo in giro, perché tutto quello che fino adesso è girato come proposta si tratta sempre appunto di situazioni in cui c'è bisogno di finanziamenti, c'è bisogno di soldi che non ci sono, quindi scostamenti di bilancio. Con questa situazione noi aiutiamo a ridare al mondo delle imprese, tutte le imprese, nuova fiducia nel futuro senza al tempo stesso gravare sulle future generazioni. In che maniera? Sostenendo quella parte della nostra economia che oggi sostiene il nostro sistema economico, che è il mondo delle imprese. In una economia di mercato le strutture deputate a creare beni per la collettività, servizi per la collettività, dare lavoro, ricchezza diffusa sono le imprese. Quindi se non riusciamo a ridare motivazioni alle imprese per guardare avanti, per continuare a svolgere il loro ruolo, credo che faremo un cattivo servizio alla nostra economia. Per cui questa proposta innovativa parte in ambito turistico, ma si espande, si può espandere anche in tutti gli altri ambiti imprenditoriali. Speriamo che arrivi dove deve arrivare. Noi faremo di tutto per farlo arrivare dove deve arrivare. Speriamo che in questo periodo diciamo di turbolenza politica a livello nazionale, tutti noi sappiamo insomma che ci apprestiamo a decidere sul fondo salva stati che divide non poco lo scenario politico italiano, diciamo questa situazione di grande instabilità politica non fagociti anche le proposte che noi riteniamo essere assolutamente buone e innovative, ma vedremo insomma. Ci organizzeremo insomma per farle arrivare. Magari con il nostro aiuto, chissà, magari c'è qualcuno in questo momento all'ascolto, è rimasto colpito, ha deciso e decide di sostenere questa cosa e farla diventare anche trasversale, perché poi forse in questo caso al di là dell'idea di essere originali e del primato di aver capito e di aver proposto un meccanismo forse potrebbe essere uno di quei casi in cui l'Unione fa la forza per cui espandere questa idea, questa proposta anche ad altre categorie, ad altre associazioni e tutto il resto potrebbe rafforzare ancora di più la qualità della richiesta. È anche eticamente molto importante, perché non dovendo ricorrere a scostamenti di bilancio per poter aiutare il mondo delle imprese, noi non facciamo gravare con ulteriore debito il peso sulle nuove generazioni, sulle generazioni che verranno che francamente insomma sono già abbastanza cariche di future impegni per quanto riguarda il ripristinare un'economia che è in difficoltà. Tra l'altro l'ambito turistico soprattutto nei nostri territori è un ambito che prevede il cambio generazionale, generalmente ci sono molti albergatori che poi lasciano ai figli e poi i figli lasciano ai figli e che a loro volta hanno ereditato dai genitori, insomma si va avanti da questo punto di vista con successioni generazionali nell'imprendita turistica italiana soprattutto delle nostre parti. Questo è sicuramente vero Paolo ma questo è anche un po' un croce delizia della nostra organizzazione perché se è vero che c'è diciamo molto attivismo da parte dei figli d'arte chiamiamoli così è anche vero che il nostro sistema turistico va avanti e ha bisogno di innovazioni importanti, di novità, di nuova formazione che non sempre è presente nei ricambi generazionali e nelle fasi di formazione interna. Allora il documento poi ha anche quello che dicevamo prima un po' un panorama generale gli affitti la moratoria dei mutui un discorso sull'Imu bonus vacanza come è andato il bonus vacanza? Il bonus vacanza diciamo l'edizione 2020 è stato un fallimento dal momento che dei 2 miliardi e 400 milioni istanziati ne sono stati assegnati circa il 15% soltanto adesso siamo tutti iperimpegnati nel cercare di fare in modo che i fondi residui rimangano comunque al turismo cosa non del tutto scontata c'è sempre il rischio di non li avete voluti per cui adesso li mettiamo in altra parte vuol dire che i cittadini non li hanno utilizzati vuol dire che non servono non è che non li hanno utilizzati perché non servono perché ottenerli era un po' come fare 13 al totocalcio cioè questo vecchio detto no? assolutamente quasi irraggiungibili quindi noi chiediamo una nuova riedizione dei buoni vacanza perché è un ottimo strumento un altro finanziamento aggiuntivo ma soprattutto criteri di assegnazione molto ma molto più comprensibili più facili più immediati ecco che pesino anche meno sulla struttura che li deve ricevere no? perché da quello che c'era un peso importante adesso questo lo chiedo all'albergatore perché ricordiamo che Claudio Albonetti è albergatore con una struttura a Senigallia e dico bene sì lo chiedo anche all'albergatore cioè era anche complicato per l'albergatore ricevere clienti che esibivano il buono vacanze era molto complicato per l'albergatore in questa situazione ma non era affatto complicato per l'albergatore nei cinque anni precedenti in cui c'è stato i buoni vacanze Italia che avevano però un finanziamento molto ma molto più basso che erano più facili da ottenere e che era un fondo di rotazione sul quale gli albergatori che ricevevano il buono lasciavano una percentuale quindi alla lunga era un sistema che si rifinanziava da solo e dopo cinque o sei anni di finanziamento statale era in grado di alimentarsi come fondo di rotazione in maniera assolutamente autonoma però non è stato cioè bastava fare una cosa che già c'era bastava fare una cosa che già c'era e che si è insabbiata io so che l'ultimo stanziamento fu affidato all'Enit che poi mi pare che è rimasto inutilizzato si parla nel documento all'ultimo punto anche dell'eco bonus al 110% noi ne abbiamo parlato in altre puntate di Casa Rossini con Estra e con il direttore con Paolo Moroni di Estra Promete ne abbiamo parlato con Paolo Benedetti di Banca di Pesaro cioè questo bonus che in qualche modo già solo dalla cifra il 110% che è più del 100% sembra un voto di laurea entusiasma e smuove un po' gli animi poi nella sostanza è anche questo di difficile applicazione qui si chiede di estenderlo non solo alle abitazioni ma anche alle strutture recettive insomma c'è bisogno assolutamente di riqualificare di innovare questo lo si è stabilito per le abitazioni civili a maggior ragione lo si deve stabilire per le strutture diciamo dedicate al ricettivo al turismo dove l'innovazione dove l'ammodernamento è una cosa che non deve mai cessare quindi per quale motivo una misura come questa assolutamente valida per le civili abitazioni non può essere utilizzata anche per il restyling delle strutture turistiche che sicuramente ne hanno un gran bisogno dal momento che non ce lo scordiamo il nostro sistema turistico si basa sulla maggior parte di piccole imprese molto datate quindi che hanno bisogno assolutamente di essere strutturate questa misura sarebbe un grande tocca sana per gli albergatori in questo periodo quando ci siamo parlati per questo appuntamento anche col direttore Giorgio Bartolini il direttore Bartolini si è raccomandato di fare un accenno anche al discorso del credito perché ricordiamo che Claudio Albonetti è qui sia come presidente di Assotel ma è anche presidente di Fincost che cos'è Fincost raccontiamolo ai nostri telespettatori e parliamo un attimo di questa situazione di credito anche se i minuti stanno correndo veloci ma già sappiamo che avremo un altro appuntamento insieme allora Fincost è una struttura che fornisce garanzie sul prestito bancario nel momento in cui un'impresa ha bisogno di avere un finanziamento Fincost fornisce una certa percentuale di garanzia sul finanziamento che l'impresa chiede alla banca può essere dal 33 fino all'80% in questo momento sono diciamo garanzie molto alte perché poi noi a nostra volta possiamo accedere alla controgaranzia del fondo centrale quindi diciamo che Fincost aiuta le imprese ad avere credito in un momento come questo credo che sia assolutamente importante spesso sono le stesse banche che si rivolgono a noi e ci dicono questa impresa ha chiesto un finanziamento non avrebbe tutte le credenziali per poterlo avere voi cosa fate noi gli diamo una parte di quelle credenziali di quella garanzia per cui l'impresa può avere il prestito un sistema di divisione ripartizione del rischio praticamente è un sistema di ripartizione del rischio in questo particolare momento ci dà la possibilità di fare qualche passettino di vicinanza in più perché a nostra volta il fondo centrale poi garantisce il confidi e diciamo a Fincost si può rivolgere anche l'interessato personalmente oppure deve aspettare che la procedura vada avanti attraverso la banca no no a Fincost si può rivolgere l'interessato direttamente prima di andare in banca oppure anche la banca dopo che si è presentato devo dire che Fincost ha un sistema di valutazione delle pratiche velocissimo noi abbiamo in Fincost consigli di amministrazione settimanali di modo che dal momento della domanda al momento dell'erogazione passino veramente pochi giorni rispetto ai mesi in cui si era abituati prima ecco Fincost aiuta anche non solo ad avere più facilmente il finanziamento ma ad averlo prima torneremo a parlare anche di questo ma adesso in chiusura io vorrei fare un'ultima domanda così fintamente provocatoria sul discorso del Natale che si avvicina eravamo riusciti forse negli ultimi anni a destagionalizzare non completamente le nostre strutture perché ovviamente noi viviamo soprattutto in costa di turismo baleare però negli ultimi anni si era mosso qualcosa un po' gli eventi che venivano realizzati a livello comunale un po' altre manifestazioni mercatine e tutto avevano fatto sì che negli ultimi anni esistesse anche la possibilità di avere un turismo soprattutto legato al periodo di Natale Capodanno con alberghi che riaprivano con situazioni con pacchetti con gruppi e tutte queste situazioni che rivitalizzavano il periodo è finito tutto un'altra volta? beh è finito tutto un'altra volta perché questa situazione lo impone lo impone intanto non ci si può muovere quindi è inutile aspettare turistiche non ci sono non ci sono ingressi non solo dall'estero ma nemmeno da regioni vicine il giorno di Natale Santo Stefano e fine dell'anno non si può nemmeno scavallare il comune diciamo così per cui sicuramente questo è impossibile io se mi permetti ho una mia teoria che nel momento in cui una struttura votata alla villeggiatura balneare apre in un periodo invernale è sì perché sul territorio c'è anche la possibilità di godersi il mare d'inverno o delle manifestazioni che sempre più spesso le amministrazioni mettono in campo in quel periodo ma anche perché talvolta c'è necessità di fare cassa fuori stagione per cui diciamo che molte volte era più un cercare di mantenere attiva la propria attività che non una vera possibilità di fare un grande lavoro durante il periodo invernale insomma per dirla come la penso se si faceva pari andava bene e allora diciamo che anche in questo caso il consiglio può essere quello ai titolari di strutture a tutti quelli che comunque hanno parte in causa su questo argomento di far tesoro anche di questo periodo di grande riflessione cioè visto che dobbiamo stare a casa e dobbiamo stare fermi facciamo una riflessione su quello che era stato fatto e cerchiamo poi magari quando sarà ora di rilanciarlo in maniera invece più concreta nel tentativo di non far pari insomma ecco di riuscire a fare un po' meglio e magari di riuscire a dare i consigli giusti anche perché no in termini di organizzazione e di tutto quello che può far sì che intorno il comparto possa dare qualcosa di più del pareggio di bilancio ma guardi molti colleghi molti albergatori io direi quasi tutti vivono di turismo ma a me piace dire per il turismo il che significa un attaccamento particolare al proprio lavoro alla propria attività alla cura maniacale dei propri servizi da offrire ai propri clienti la nostra è una località le marche la costa eccetera di villeggiatura estiva ecco cerchiamo di recuperare quanto più possibile questo concetto di villeggiatura estiva magari cercando di fare in modo con una sinergia molto stretta con le autorità locali di destagionalizzare il più possibile la cosa che mi preoccupa è che vedevo ieri che ci sono qualche proposta c'è qualche proposta per carità anche assolutamente legittima per agevolare il distanziamento che parla di mantenere le scuole aperte fino a tutto luglio ecco questo sarebbe l'esatto contrario della destagionalizzazione potrebbe essere un grande problema bene allora è stato con noi Claudio Albonetti lo ringraziamo sappiamo che tornerà e adesso nel ringraziarlo e nel salutarlo lanciamo comunque la nostra pausa pubblicitaria ricordando che dopo non ci sarà la videodedica perché alla musica dedicheremo l'ultima parte della nostra trasmissione e di conseguenza l'eventuale dedica che dovesse arrivare la legheremo al video che vedremo insieme all'ultimo dei nostri ospiti grazie a voi grazie grazie eccoci di nuovo in studio con Antonella Baioni che se avesse messo il capellino da Babbo Natale sarebbe stato un Babbo Natale perfetto perché con una inquadratura larga potete vedere ci ha portato veramente tante tantissime cose tantissimi giocattoli perché Antonella Baioni dal 2012 è titolare di Giochi di Kim giusto? giusto giusto insieme a mio marito Claudio che salutiamo tra l'altro giustamente che sarà impegnato in questo momento con i clienti e meno male direi che è una è una di quelle belle notizie diciamo sempre Antonella è nata il 28 settembre vuoi sapere cosa dice il nostro librone personologi su questo giorno? ottimo allora è il giorno del rubacuori bisogna capire cosa vorrà dire i nati il 28 settembre hanno grande abilità di saper conquistare conservare l'affetto delle persone con cui desiderano entrare in contatto ciò non significa necessariamente che siano fisicamente più attraenti degli altri ma piuttosto che possiedono una sorta di fascino ammaliante che può sciogliere anche i cuori più freddi facendoli battere all'impazzata ecco questo è quello che ci dice il nostro librone a cui attingiamo ogni tanto è nata anche Brigitte Bardot lo stesso giorno lo sapevi? sì sì lo so Achille Campanile Caravaggio Marcello Mastroianni certo romantico raffinato e magnetico sono i pregi i difetti non li diciamo va bene così allora ti ci ritrovi in questo e soprattutto nella così in qualche modo nella scelta di decidere di attivare di aprire un negozio di giocattoli certo certo un negozio di giocattoli ricordiamo Giochi di Kim si trova a Pesaro in via Vincenzo Rossi 44 quando si apre un'attività di questo genere si fa perché si fa perché si apre un'attività di giochi per bambini un lavoro che fa restare un po' bambini? eh sì soprattutto fa restare bambini ma vuole dare anche l'opportunità ad altri di continuare ad esserlo e soprattutto anche i nostri clienti lo vediamo hanno piacere di scegliere per i loro bambini ma scelgono anche con le loro i loro desideri i loro piaceri e questo fa sì che quando scegliamo insieme poi ci divertiamo anche qui siamo oggi in pieno ambito tv di servizio perché oggi vi faremo vedere anche quelli che sono i giochi che possono essere una ottima idea regalo natalizio un'ottima richiesta babbo natale per essere chiari naturalmente è ovvio che questo è il periodo giusto ma i giocattoli non si vendono solo a natale noi i giocattoli si vendono tutto l'anno perché c'è sempre una ricorrenza un motivo diciamo per donare un bambino un premio non solo anche essere stato bravo appunto per essere andato dal dottore così una ricorrenza o l'amico devo fare no devono fare il regalo agli amichetti regalo di classe tanti tanti motivi oltre il natale il carnevale noi abbiamo anche vestiti proprio per loro insomma tra vestimenti ci sono vari vari momenti dell'anno è come se fosse tutto l'anno un rituale arriva il natale arriva il carnevale poi arriverà la pasqua poi arriverà anche d'estate tutti i giochi per le cose esterne così diciamo che esiste una stagionalità ma è senza flessioni cioè è una stagionalità che si succede si sussegue continua è molto lineare devo dire è molto lineare anche se è chiaro che il picco è natale il picco in questo periodo diciamo è chiaro infatti dovevamo sentirci non ci siamo neanche riusciti a sentirci proprio perché fortunatamente è molto impegnata con i clienti che in questo momento si domanderanno perché non ci sei è qui è qui con noi è qui con noi in televisione e diciamo che l'obiettivo è quello di farvi conoscere ancora meglio questo negozio che ha un nome particolare giochi di Kim viene dal famoso gioco di Kim lanciato in abito scautistico certo infatti insieme a noi il nostro ideatore che poi era anche il creatore dell'immagine è uno scout diciamo un capo scout anzi Cristiano Andreani che lo saluto salutiamo conosciamo benissimo anche noi ciao Cristiano insieme abbiamo valutato questo che questo poteva essere il nome giusto per un negozio di questo tipo che vuole tirar fuori la creatività dei bambini quindi giochi alternativi ad altri che comunque l'obiettivo è questo far venire fuori proprio questo aspetto di ognuno di loro attraverso appunto gli stimoli che noi diamo e quindi la nostra scelta è proprio su questo tipo di giochi Kim ricordiamo è protagonista dell'omonimo romanzo di Radial Kipling che poi è quello del libro della giungla insomma certo e il gioco di Kim se non ricordo male perché sono stato scout anch'io consiste nel far vedere in un vassoio o comunque in uno spazio una serie di oggetti che poi vengono coperti e bisogna ricordarsi quali sono di come era quello che è a volte anche in un contesto cambiare il contesto però ricordarsi che cosa manca o che cosa è stato cambiato quindi sicuramente per ragazzi svegli io dico anche per menti abili più abili tenere svegli queste menti queste capacità che tutti poi i bambini hanno ragazzi svegli o per quelli che vogliono svegliarsi perché questo qui è un gioco che sviluppa molto l'attenzione per cui sicuramente se uno si comincia a esercitare si accorgerà che la usa anche nella vita di tutti i giorni perché tante volte può capitarci di provare a ripensare a una scena che abbiamo vissuto e ricordarci pochissimo di questa scena soprattutto pochissimi dettagli e invece l'attenzione ai dettagli potrebbe aiutarci anche proprio nell'esperienza quotidiana e certamente oltretutto allena la memoria la tiene molto attiva anche in tarda età quindi anche i nonni stessi quando giocano con i loro nipotini comunque fanno un esercizio mentale molto importante anche perché bambini è un luogo comune si resta voglio dire si deve sempre mantenere il contatto con la parte bambina di se stessi aiuta molto nella vita allora con tutte le difficoltà legate al fatto che abbiamo questo microfono lo spieghiamo ai nostri spettatori che è legato appunto alla situazione alla prevenzione dal contagio e di conseguenza è necessario che noi cambiamo e sanifichiamo i microfoni degli ospiti che si alternano e con tutte le difficoltà di un microfono gelato illustraci un po' e magari se vuoi ti aiuto anch'io illustraci un po' quelli che sono questi giochi che ci hai portato perché sono un po' una sintesi ma una piccola sintesi perché immagino che in negozio avrai tante tantissime altre proposte avrei portato tanti scatoloni devo dire la verità ma non era possibile ecco quindi abbiamo diciamo fatto una selezione una piccola selezione di cose appunto per esempio creative come il creare l'atelier dei profumi crearsi il proprio profumo personalizzato quindi i bambini imparano a selezionare odori a metterli insieme creare il profumo a riconoscerli a riconoscerli anche sì qua invece è un attaccare e staccare è un'attività che ai bambini piace tantissimo qui c'è un armadio si apre l'armadio c'è una bambina che verrà messa in verticale e tanti tanti abitini da poterla abbellire diciamo far vestire insomma e poi si richiude l'armadio e via oppure creare per ragazzini anche un pochino più grandi crearsi il proprio kaleidoscopio e quindi tutto quello che c'è dentro un kaleidoscopio che magari noi lo vediamo già fatto ma qui fa vedere appunto come come si può fare si può creare con le proprie mani in qualche modo mi pare di capire che c'è un ritorno a cose che quelli molto anziani come me facevano da soli con l'aiuto appunto o dei nonni o di qualcuno tagliando provando eccetera qui invece diciamo che è un po' è un semilavorato sì è un laboratorio noi li chiamiamo i nostri piccoli laboratori sono delle piccole delle scatole dei cofanetti dove comunque i bambini possono ecco per esempio questo è bellino scusate è una scatola dove dentro c'è una una tavoletta di sughero e ci sono delle immagini io voglio fare il camioncino prendo tutti i pezzettini e poi con il martellino e il chiodino fatto giustamente per i bambini molto semplice vado a metterlo infilarlo nel buchino che ci sarà predisposto e creo comunque l'immagine di quello che vedo nella 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 carta quindi è molto semplice cioè è un laboratorio per iniziare una parte di esempio da seguire poi dopo chiaramente i più creativi o i più indisciplinati si divertiranno a fare diversamente possono fare anche come vogliono loro quindi creare una cosa nuova completamente nuova sì poi anche il teatrino delle ombre è una cosa che piace oltretutto noi abbiamo queste torcine che piacciono da matti con scusate il termine molto da matti ma piacciono tantissimo con tre storie da proiettare i bambini mettono lì la torcina mettono il dischetto e poi lo girano sequenza dopo sequenza inventano la storia questa è una torcia come si può usare come torcia normale però da luce sì ah ecco c'è il dischetto ci sono i dischetti c'è questo qui che si si apre dove si infila il dischetto il dischetto praticamente si infila il dischetto così e il dischetto racconta una storia proiettata certo ma che meraviglia cioè non è una storia fatta ci sono delle immagini il bambino crea quello che potrebbe essere la storia e questa è la creatività e la gira con le mani è bella e sono tre storie dopo ce ne sono anche altre una volta che uno ha esaurito queste tre la fantasia oppure beh dopo ci sono altri altri cofanetti da comprare altre cose giustamente ci sono anche scatole più grandi con questi chissà perché questa ha tratto di più degli altri la mia attenzione non so perché ci ricordiamo quelli io ce l'avevo il viewmaster era una cosa favolosa perché il viewmaster è stato uno dei primi esempi di fotografie in 3D ecco perché si vedeva attraverso un visore binoculare vedevano una doppia immagine ripresa leggermente sfalsata che dava l'idea appunto della profondità poi c'era anche il proiettore c'avevo tutto il viewmaster è stato una delle cose sta venendo fuori la parte bambina in questo momento ma dopo hai voglia hai voglia io ho giocato tantissimo con tutte queste cose legate alle immagini molto poi mi piaceva il proiettore avevo quei film si vede che già boh chissà forse quella volta già mi piacevano queste cose da fare da soli io non sono uno di quelli che andava a giocare a calcio o queste cose qua facevo cose da solo e probabilmente questa qui mi ha colpito e comunque evidenziava un pochettino quello che era il piacere era il piacere infatti noi diciamo che attraverso i giochi che diamo ai bambini poi ce n'è qualcuno che piace di più a loro e qualcuno che magari piace di meno ma così possiamo vedere anche come a cosa sono portati cioè l'identità del nostro bambino e quindi possiamo anche aiutarlo poi a svilupparlo per un futuro lavoro magari perché sappiamo che se si fa un lavoro che piace che è vicino alle nostre corde saremo sempre più felici certo io racconto sempre che in questa trasmissione ci ritroviamo quasi a fare da filo conduttore su questa teoria perché ci siamo trovati ospiti e credo che anche la tua presenza oggi lo confermi tante persone che fanno un lavoro che gli piace la passione per il lavoro che stanno facendo soprattutto quando è un lavoro non obbligatorio nel senso un lavoro sai di quelli che dice non potevo fare diversamente ma che si sceglie questa idea che voi avete deciso di aprire questo negozio in tempi relativamente recenti per cui immagino che non sia una cosa che c'era e che era ovvia e che non si poteva fare diversamente allora la nostra esperienza ormai è ventennale anche in un'altra realtà e diciamo che dopo a un certo punto abbiamo dovuto decidere se continuare a fare una cosa nostra e ci siamo buttati perché ci piaceva questa idea di diciamo di continuare la nostra professionalità tutto quello che avevamo imparato di metterlo in campo rischiando in prima persona e io ho fatto anche otto anni di insegnanti in un asilo nido quindi per me è tutto molto naturale prima dove ero facevo la consulenza poi le insegnanti e poi ho detto perché sprecare tutto quello che ho acquisito fino adesso e mi sono buttata insieme a mio marito naturalmente Giochi di Kim ha anche una pagina Facebook ovviamente ha anche un sito dal quale noi abbiamo capito forse ho capito male ma mi auguro di no che Giochi di Kim non è solo un negozio però è anche un po' un laboratorio creativo insomma si fanno si fanno cose insomma giusto? allora abbiamo fatto dei laboratori all'interno siamo stati presenti anche in manifestazioni tipo la mezzanotte bianca e Scudo Volley quando fa l'estate la sua manifestazione noi ci siamo con i nostri giochi e e facciamo giocare i bambini comunque sì l'idea anche di chiaro con gli spazi o con i tempi adesso in questo momento è tutto un po' bloccato abbiamo fatto anche laboratori di lettura anche sul sulla musica e anche perché crediamo appunto in queste cose e vogliamo dare l'opportunità alle famiglie ai bambini di potersi esprimere anche in questi ambiti qui quindi siamo sì a tutto tondo oltretutto a volte collaboriamo anche con le scuole per fornire materiali sì non è solo un negozio di giochi ma è anche altro uno stimolatore uno stimolatore sì se dovessimo anni fa c'erano dei giochi che andavano per la maggiore al punto che non si trovavano più poi tra l'altro ho scoperto esserci anche una tecnica dietro questo fatto che i giochi non si trovano più ma questo un giorno lo racconteremo diversamente per esempio mi ricordo io per molti anni ho vissuto ho avuto la fortuna di vivere in montagna e fare tutta la stagione invernale e mi ricordo che lì c'era questo problema che arrivano le famiglie che dovevano organizzare questo tipo di babbo natale anche sul posto visto che erano in vacanza e molto spesso lamentavano un anno mi ricordo lamentavano che non trovavano il cantatù perché il cantatù quell'anno lì ti parlo di molti anni fa il cantatù in quel momento era diventato pubblicizzatissimo ma non si trovava esiste ancora questa cosa del giocattolo introvabile oppure la cosa si è organizzata diversamente e se sì qual è il giocattolo introvabile di quest'anno allora esiste tutti gli anni abbiamo 3000 telefonate di chi cerca disperatamente un gioco perché giustamente i bambini l'hanno visto in pubblicità hanno chiesto quello e quindi i genitori disperati ci arrivano le telefonate anche dal sud cioè veramente esiste e l'altra domanda qual era? qual è quest'anno? quest'anno ancora non si sa ancora non c'è devo dire la verità non c'è ancora quel gioco oddio qualcuno ha chiesto qualcosa ma di rilievo niente c'è uno scrittore un sociologo e uno studioso americano che si chiama Bob Cialdini che su questo su questo argomento proprio fa un approfondimento legato a uno dei principi ha scritto un libro che si chiama le armi della persuasione e c'è un argomento proprio un capitoletto andatevelo a cercare se avete voglia di sapere perché tutti gli anni c'è un giocattolo che non si trova perché c'è una tecnica ben precisa e si rifà uno dei principi più efficaci che è il principio della scarsità cioè quando una cosa non c'è allora tutti la cercano ma questo è ancora più perfezionato per cui poi fuori onda visto che adesso ormai il tempo è già finito è incredibile te lo racconto o comunque se siete curiosi e se anche voi siete incappati nel problema del giocattolo introvabile vi consiglio di dare un'occhiata a questo libro di Bob Cialdini le armi della persuasione che tra l'altro svela anche molte altre cose e che spiega esattamente il meccanismo che è fantastico e viene a favore di voi venditori di giocattoli pensa a cosa ti dico è una cosa che nasce con l'obiettivo di non creare il buco del dopo feste questa è l'idea perché poi dopo arriva quel giocattolo lì che è introvabile dopo le feste poi arriva magari sì chiaro chi sa perché esatto molto bene senti io è stato molto bene ma qui il tempo è volato letteralmente vangaggia allora vorrà dire che se anche in studio si sta bene con Antonella e con Giochi di Kim ancora meglio si starà andando a trovare il negozio per cui se non hai altre cose no no io ti ringrazio molto di queste parole che tu hai detto a noi fa piacere in effetti se conoscere persone chi ci conosce sicuramente ci vede verrà eccetera ma anche invitare nuove persone di avvicinarsi di non avere paura di nulla voglio dire siamo lì con proposte di tutti i tipi di tutti i prezzi voglio dire qualsiasi esigenza noi ci siamo siamo lì per voi via Rossi 42-44 Pantano aperto sempre sì ormai i giorni sono tutti decisi con orari magari diversi perché tipo il venerdì il sabato facciamo l'orario continuato mentre la domenica adesso dobbiamo decidere siamo aperti di pomeriggio e abbiamo aperto oggi come lunedì mattina come nuova apertura piano piano ci avviciniamo chiaramente l'ultima settimana sarà quella più full diciamo dove siamo sempre disponibili non aspettate l'ultimo minuto no quest'anno no se non vogliono fare le file che dopo ci dispiace tanto vedere lì fuori le persone noi diciamo questo siamo aperti abbiamo degli orari abbastanza ampi quindi spendete qualche minuto per decidere quando andare trovate il tempo per andarci un po' prima insomma grazie Antonella grazie anche a te buon Natale presto per dirlo comunque dai in qualche modo avendo a che fare con i giocattoli ci sta buon Natale a tutti quanti grazie grazie adesso facciamo un cambio volante perché qui funziona così praticamente tu lasci il nostro divano e il nostro salotto al prossimo ospite che io conosco abbastanza bene si chiama Davide è un cantautore ha un cognome abbastanza affine entra entra Davide vieni vieni e è Davide Pagnini allora qui qui la cosa è ma Pagnini stesso cognome Paolo Pagnini chiariamo bene è proprio sì è così è mio parente nel senso molto parente è mio nipote Davide ciao Davide buongiorno buongiorno a te buongiorno a tutti allora lui fa parte della mia quella che io chiamo la mia famiglia un po' invadente perché noi siamo siamo tanti e ognuno fa cose a partire da Babbo Carlo che se è all'ascolto in visione lo salutiamo e che rivedremo in una delle prossime puntate l'abbiamo già visto a tenerci a battesimo nella prima e andando avanti con tutti gli altri che adesso non vado ad elencare proprio per evitare insomma di rimarcare numerosi numerosi Davide fai il cantautore tra le varie cose il cantautore esatto infatti quando ti ho chiamato ti ho detto come come prendo anche gli appunti pensa ho detto come ti devo definire cantautore ti ho detto dicono così mi definiscono così cantautore non è colpa tua è come Jessica Rabbit non è colpa tua ma ti disegnano così però in realtà io sono andato a vedere sulla pagina facebook e tu ti definisci un po' di più cantautore autore pop italiano talent scout per PMS studio ideatore del concorso Grillo d'Oro allora qui sul concorso Grillo d'Oro dobbiamo chiarire bene una cosa perché io ho cantato nel coro del Grillo d'Oro tendo a escludere che l'abbia ideato te nel concorso del Grillo d'Oro c'è da spiegare bene la cosa perché c'è qualcosa che poi l'idea nasceva diciamo quest'anno quindi non è stato l'anno ideale per far nascere questa cosa ma il Grillo d'Oro è un coro dove tu appunto un coro di abbastanza ho cantato io da piccolo ecco quindi qualche anno ce l'ha ma con appunto il coro del Grillo d'Oro e tutte le persone che ci stanno dietro abbiamo avuto l'idea di sviluppare un concorso proprio un concorso per cantanti cantautori musicisti appunto appoggiandoci alla casa discografica e lì si lega l'altro mio mestiere da talent scout quindi appoggiandoci a una casa discografica io ho avuto la possibilità di appunto di proporre questa idea e di dire oltre al coro e alla realtà proprio canora del Grillo d'Oro perché non aggiungere un qualcosa che possa essere un'occasione un'opportunità per nuovi musicisti nuovi cantanti nuovi cantautori per affacciarsi a un panorama discografico e quindi perché no abbiamo un coro e una realtà solida e molto molto bella con il coro del Grillo d'Oro abbiamo una casa discografica che può supportarci e sostenerci in percorsi discografici perché poi ci sono io che sono un po' il collante della cosa che mi sono fatto questa idea perché non provarci giusto e quindi abbiamo ideato tutto abbiamo sviluppato tutto poi è arrivato febbraio e quindi ci siamo messi ovviamente in stand by anche perché va fatto bene va fatto molto bene viene riportato diciamo sulle scene e tutto quanto dopo molti decenni va fatto bene siamo ambiziosi poi siamo ambiziosi perché abbiamo delle mire abbastanza importanti non vogliamo fare il classico concorso senza nulla togliere però il classico concorso che è quello che si fa dappertutto vogliamo fare una cosa un po' più particolare abbiamo la possibilità di fare cose un po' più strane anche e mettere a disposizione degli artisti dei partecipanti qualcosa di unico quindi però per fare questo c'è bisogno di tutto un incastro di cose che quest'anno purtroppo abbiamo dovuto mettere in stand by ma tutto rinviato fra pochi mesi appena si comincia allora Davide è nato il 16 settembre è il giorno della vivace energia pensa ci troviamo nato il 16 settembre mostra uno spirito indomabile che non conosce sconfitta o confini il loro desiderio di andare oltre di superare le conquiste già fatte in qualsiasi settore è davvero immenso e tuttavia hanno anche la pazienza necessaria a occuparsi degli aspetti più tecnici della loro attività non essendo egoisti alla ricerca del successo a ogni costo cioè questo libro è una cosa quasi imbarazzante imbarazzante esatto ci prende in un modo imbarazzante nati in questo giorno c'è anche Alessandro Cicchipaone Enrico Quinto che non guasta Peter Falck anche e nei pregi di gran cuore coraggioso e onesto vuoi sapere anche i difetti? sì sensazionalista ribelle e distruttivo sei distruttivo? no ma forse i prossimi anni forse crescendo diventare distruttivo a un certo punto per ora no ma non si sa mai però adesso ancora no allora un po' di storia personale naturalmente io ho detto che è mio nipote allora abbiamo ieri mi sono divertito ieri pomeriggio tanto avevo poco da fare a cercare un po' di foto e adesso dalla regia le guardiamo insieme e mentre le guardiamo qui sei proprio piccolo qui sei piccolo con nonna Pia nonna Pia è mia mamma che non è più con noi ma che secondo me segue una delle nostre spettatrici più attente bella questa foto rivolgiamo a lei il nostro pensiero commosso e poi invece c'è un'altra foto andiamo avanti con la tua partecipazione a Pesaro Villa beh questa è un'attività che più che una partecipazione per me è stata un'attività dominante in una parte di vita che i primi palchi li hai cantati con Pesaro Villa esatto e anche il primo palco da musicista ma sai poi io da questa foto mi viene in mente una cosa io sono fondamentalmente una persona molto timida e anche molto così riservata Pesaro Village e tutta tutta la carriera sui palchi e davanti ai turisti mi ha sbloccato tantissimo questa cosa quindi è stato proprio un ponte che mi ha aperto alla gente al pubblico a stare sul palco a stare in mezzo che poi no c'è questa grande differenza tra stare sopra al palco che ti eleva a una situazione che per certi punti di vista è molto più facile ho scoperto poi negli anni è molto più facile stare distaccato con le luci contro dove tu vedi praticamente il buio della sala e poco di più poi invece ci sono quei concerti quelle situazioni come in quella foto dove sei dentro la gente allora lì devi tirar fuori veramente un'apertura grossa davide si è anche laureato e qui c'è anche una foto ah è vero si è anche laureato in scienze del turismo per cui a macerata e poi vediamo e qui entriamo nel capitolo musica con il primo duo con Jacopo Mariotti il duo Ebano qui si è al festival della felicità qui invece si è al super sound di Ferrara si di Ferrara dove avete clamorosamente avuto una menzione come presenza scenica in due infatti in quegli anni lì facevamo diversi concorsi e effettivamente ci è capitato più volte di vincere il premio come impatto scenico che faceva abbastanza sorridere perché eravamo due in due prima ti ho visto a Gemmano qui sei in versione Basker e nella prossima foto sei a Rimini in versione artista di strada ovviamente era tutto coordinato infatti non c'era il cappello sotto questa è una versione rara perché sei in versione band purtroppo il progetto band era partito e poi è difficilissimo molto difficile è difficilissimo io a parte che poi qui è tutto il mio progetto da solista da cantautore quindi già il fatto che dei musicisti di spessore che poi tra l'altro ringrazio si mettano a disposizione proprio perché è diverso essere una band da essere musicisti di supporto a un cantautore che ha il suo progetto e loro sono stati fantastici per i palchi più grossi per delle situazioni dei festival delle cose proprio appunto da squadra da band mi piaceva molto questa idea solo che io faccio un genere anche molto introspettivo molto minimalista molto intimo e quindi poi le cose sono andate per un verso un po' più appunto il chitarravoce la solitudine qui ti vediamo invece a Santorini in una delle altre tue cose curiose questa cosa di esplorare di portarsi dietro amici dotati di telecamere e di professionalità e di tornare a casa spesso con del materiale buono per girare poi i videoclip delle tue canzoni e questa è un'altra delle cose vacanza allargata lavoro videoclip diciamo è una cosa che mi piace moltissimo ecco questa foto qui dovresti conoscere qui sei in home session home session questa è casa mia tra l'altro per quello dico che sei esatto in una home session live questo è un altro bel esperimento registrare un videoclip dal vivo praticamente senza fare il playback senza playback senza editing dopo riducchi vari vediamone altre perché mi sto divertendo molto anche io mi sto divertendo molto qui siamo al focus qui siamo a uno dei momenti massimi diciamo del tuo percorso questo è l'interno del teatro dillo te questo che è il teatro del navile di Bologna che è quella sorta di cantinetta barra teatro che il buon Lucio Dalla insieme a dei suoi colleghi ha sviluppato nello scantinato veramente di casa sua per accogliere nuovi cantautori emergenti ti vediamo come polistrumentista perché sei anche al pianoforte oltre che alla chitarra hai fatto questo concerto l'anno scorso al teatro del navile si era un anno fa un anno fa circa un anno fa è stato un grande raggiungimento perché ovviamente appunto è la casa di Lucio è dove lui con i suoi amichetti che sappiamo i nomi dei suoi amici all'epoca si incontravano scrivevano cose leggevano libri si scambiavano idee e quindi e in quel posto lì adesso c'è questa gestione c'è questa gestione sì teatrale e musicale perché c'è Nino Campisi per esempio che è un suo amico con cui appunto ha sviluppato questa realtà attore teatrale regista quindi nell'ambito teatrale e poi Marcello Romeo e altre persone seguono invece la linea musicale che appunto dà spazio a cantautori che loro ritengono di spessore nuovi cantautori e quindi suonare lì è un tempio sacro è qualificante insomma esatto allora nel domandarci cosa ci saremmo detti ma faceva ridere già solo pensarlo perché il problema non c'era e comunque uno dei punti focali era ruotare intorno alla proposta di uno dei tuoi video perché Davide oltre che ovviamente suonare suonare dal vivo quando si può comunque produce anche l'abbiamo detto prima grazie alla complicità di Francesco Agostini e di altri amici particolarmente dotati con telecamere e affini produce dei bellissimi videoclip ne vedremo uno che poi tra l'altro sarà quello sul quale faremo la dedica se Allegra ci porterà una dedica se qualcuno l'avrà fatta oggi però la domanda è questa cioè in questo momento più che mai visto che la musica live dal vivo è ferma il video diventa elemento importante lo era già comunque lo era già sì allora io sono nato musicalmente artisticamente in un'epoca di passaggio perché ormai sì mi chiamano ragazzo però in effetti è già da un quasi 15 anni che sono nella discografia e in effetti all'epoca parlo di 10 anni fa circa c'era il cosiddetto download non c'era lo streaming ancora non c'erano le piattaforme Spotify Amazon Music tutte queste qui ma si comprava ancora la musica e per darla invece in modo gratuito c'era il videoclip c'era YouTube con il videoclip e per dare anche proprio l'immagine di sé dell'artista dato che tutti i social tutte le piattaforme le foto le cose erano molto meno e quindi il videoclip ha preso un'importanza fondamentale e io che appunto ero lì a volermi far vedere e scalpitavo ho iniziato con i videoclip e poi non ho più smesso perché poi mi ha appassionato tantissimo ma ho notato che poi in questo periodo come dici tu c'è una una rincorsa incredibile al videoclip ma che sia il videoclip che sia un video live di un concerto fatto in studio cosa che per esempio fra poco uscirà posso dirtelo già abbiamo preparato in studio di registrazione un live appunto perché non si possono fare live quindi cosa fai lo filmi lo filmi e lo metti in rete anche sui social tantissimi piccole clip brevi ma comunque i video si sostituiscono praticamente in questo periodo il rapporto faccia a faccia i palchi allora siccome io comunque ti voglio tornare in studio ti voglio salutare adesso mandiamo questo videoclip però Allegra ci porta la dedica e vediamo il pezzo che tu hai scelto era dentro un déjà vu poi ne parliamo velocemente dopo quando ci salutiamo buongiorno mi chiamo Raffaele e sono un professore vorrei dedicare in questo periodo un messaggio di speranza a tutti gli studenti che affronteranno l'esame di maturità è già ora che cominciano a pensarci non aver paura delle difficoltà che incontri ricorda che l'aquilone si alza con il vento contrario mai con quello a favore bella questa cosa da mettere in qualche canzone grazie potrebbe essere grazie al professore Raffaele userà Davide questa situazione adesso vediamo il video che sarebbe speriamo di riuscire a farlo fino in fondo perché questo qui è importante se no capiterà di riguardarlo su youtube e poi daremo le coordinate vediamo il video di dentro un deja vu non ce la faranno i buoni a vincere sul male perché il male conta almeno quanto il bene non ce la faranno a convincermi che siamo tutti eretici senza una religione non ce la farà l'informazione a rendermi più triste di come sono già non ce la faranno le rivolte popolari a convincermi che tutto cambierà che tutto cambierà non ce la faranno a convincermi che c'è una sola strada percorribile che la vita è questione di copioni e di una segnaletica invisibile non ce la faranno le donne a pagamento a convincermi che non ti amo più che alla fine si rinasce come le stagioni per ripetere gli errori dentro un deja vu dentro un deja vu non è tutto vero ciò che ti hanno detto non è tutta legge quello che hanno scritto un'idea che nasce vive per salvare lo stato delle cose non è tutto oro ciò che ti ho promesso non è solo merda che ti sputo addosso è la conseguenza del tuo fingere e del mio credere e non gli importa cosa dirai non gli importa se capirai siamo solamente numeri dentro i lenchi telefonici e non mi importa e non mi importa cosa dirai non mi importa se capirai libertà è soltanto una definizione sentirsi liberi è la vera condizione non ce la faranno le statistiche a convincermi che tutto è calcolabile anche l'abito perfetto che indosso da una vita per sentirmi ancora parte di me non ce la faranno le donne a pagamento a convincermi che non ti odio più che alla fine si rinasce come le stagioni per risolvere gli errori dentro un déjà vu dentro un déjà vu non è tutto vero ciò che ti hanno detto non è tutta legge quello che hanno scritto un'idea che nasce vive per salvare lo stato delle cose non è tutto vero ciò che ti ho promesso non è solo merda che ti sputo addosso è la conseguenza del tuo fingere del mio credere e non gli importa cosa dirai non gli importa se capirai siamo solamente numeri dentro elenchi telefonici e non mi importa cosa dirai non mi importa se capirai libertà è soltanto una definizione sentirsi liberi è la vera condizione non mi importa se capirai è vero ciò che dici che la felicità è soltanto un luogo fatto di domande e di risposte che ci calzano a pennello proprio come il quadro giù in salotto che alla fine poi è fasullo ma ci piace un sacco eccolo allora è bello bella la canzone è esplicativo il video da vedere e rivedere come secondo me dovrebbe essere caratteristica dei video sì credo proprio di sì dovrebbe essere una cosa che ti incuriosisce poi ti fa tornare voglia ti fa tornare voglia non devi raccontare troppo bene perché se ti racconta troppo bene dopo un po' ti annoi invece la caratteristica della musica è quella di aver voglia di riascoltare di riascoltare e trovare nuovi stimoli quando un pezzo ti piace riascolti e riascolti allora il tempo è volato come sempre stiamo già rubando un minuto e più alla trasmissione che segue diamo le coordinate a questo punto per conoscere meglio Davide Pagnini Facebook la pagina Davide Pagnini Instagram Davide trattino basso Pagnini il sito Davide Pagnini punto com diciamo sui social o su YouTube per vedere questo e tantissimi altri videoclip quanti ne hai fatti di video? li hai mai contati? forse ti hai fatto la domanda sorpresa ne sono usciti allora cinque singoli del nuovo progetto più altri cinque di quello prima più altri tre quattro di quello prima ancora quindi secondo me siamo sulla quindicina buona di videoclip ufficiali più tutti i live e tutte le varie cose se ne trovano parecchi Davide Pagnini su YouTube esce fuori tutto benissimo bene non diamo appuntamenti live perché in questo momento non li possiamo dare non diamo altri appuntamenti però insomma siamo contenti di averti presentato sarebbe strano dire conosciuto io conosco già da un po' però di averti presentato al nostro pubblico nell'ambito se vogliamo anche di un tema che è questa pesaro città della musica che comunque fa da grande grandissimo contenitore ai tanti generi musicali ai tanti fermenti musicali che nascono nella nostra città benissimo allora noi abbiamo concluso grazie Davide e grazie a tutti noi abbiamo concluso sono stati con noi oggi sul salotto di casa Rossini Claudio Albonetti presidente nazionale Assotel Confesercenti Antonella Baioni titolare di Giochi di Chim Davide Pagnini cantautore l'appuntamento è con le repliche di questa puntata e con la prossima diretta mercoledì mattina alle 10 grazie a tutti grazie a tutti